Il nostro prodotto si chiama Eco Infinity Watch. La nostra azienda si occupa della produzione di un orologio da polso, personalizzabile online, prodotto con materiali ecosostenibili e riciclabili. Si tratta di orologio multifunzionale waterproof, dotato di cronometro, sveglia, contapassi, fugi orari, retroilluminazione, collegamento bluetooth e comandi vocali. I nostri punti di forza sono la diversa gamma di personalizzazioni, la totale ecosostenibilità del prodotto e le funzionalità innovative. Nessuno propone un prodotto paragonabile al nostro. Il nostro prodotto è indirizzato ad un pubblico giovane, che si vuole distinguere con un oggetto unico ed innovativo. Eco Infinity Watch! E' grande, unico, innovativo! Sono Camilla, Nicolò, Francesco, Antonio, Andrea.